Dime pistri Cacchiere pistri Non è tutto buono eh Noi vediamo la scogliamo in questo palazzo E come fai? Ma è per prenderci il punto che è tutto controllato E in cazzo quattro piante Che fai giù? Puliamo nei palazzi chiamati? Ho trovato il sistema Ecco Ah vede Cristo Sa cosa? Come si chiama? Aspetta 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 Non muovete non muovete cosaccia Non muovete non muovete Questa è di una lampadina per scappi? Perfetto! Questo è tutto più facile Luce! Lo permesso di dire? Un rato di luce Bra! E tu lo sai che non pensavo a cantare di gente? Grazioso! E di me dico che vanno a fare? Ma tu vedi un rato di luce? 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 E poi si già fanno E allora cosa faccio? Ma io ancora no Le medici quando arriva metà sciata Si scarica la pazzella E io non ravi che lo faccio con la veneta E tu vedi un rato di luce? E io oggi si tratta di luce? Ma tu vedi un rato di luce? E io comunque si tratta di un rato di ipocrisia zucca a me adesso vi insegnerò una cosa che tu Pompeo non hai mai letto in nessun libro di scuola e che tu Margarita dove sei non hai avuto ancora il tempo di imparare ma che soprattutto voi ti avete rubato la valigia sappiate che è piena di giornali e sappiate che la vita è come un figlio nasciate del padre e ora è il padre e io vi faccio il tuo questo è un buon giorno quest'anno poverete in nostra prestazione di tagliare l'acqua o bene e senza attenzione la gente che passava forse non viveviva ho freddo fai e sogni non sapete quanto si soffrite ma poi siamo ancora grandi per noi pensavo signori una volta a cui lo ho letto è una volta ho calciato bravo il postino Domenico Denise la dottoressa Caterina Denise Pancredi il piccolo lord Giamprato Romeo la zingara rosa Antonella Macheda il vigile urbano Roberto Guglielmo bravo Trandamiano Agostino Megale Don Carmelino Leo Pancredi Leo Pancredi Leo Pancredi un nipote Ponteo Nino Marrappotti nostro secretario la nipote la nipote Andrea Abra la nipote Carmelina Giovanna Macheda Le volontarie del centro Giovanna Denise Antonella Megale la direttrice del centro Valeria Tripoglio Totò Santino Sgro e il grande nanà Polino Russo la nostra vita Presidente Giuseppe Sgro Grazie